il fatto che non ti devi spostare troppo. Sì, è molto comoda. È la città, no? Ma va bene. Quello che non mi piace... No, no, dai, prego. Sì, sì. Ti dico, quello che non mi piace molto di vivere qui è che vivo o abito a una città. Abito in una città che si chiama Divas. Ok. E allora vicino a casa mia c'è una palestra, no? Sì. Palestra, si dici. Uno stadio. Uno stadio, ok. Uno stadio. Tipo da calcio? Da calcio, sì. Da calcio è di un team, no? Squadra. Ah, sì, di una squadra. Mi sembra che sia la più popolare di Costa Rica. Ah, wow. E allora è come il classico, no? Due squadre. Squadre. Squadre, sì, esatto. Due squadre. Questo stadio è di Saprisa, si chiama la squadra. Ok. E l'altra si chiama la liga. E allora quando giocano, no? Giocano. Quando giocano, è un caos, no? È la... come si dice? È la... Bordello, sì, sì, in francese. Lo puoi dire anche in italiano. Allora, un caos. Casino, bordello. Ah, sì, casino. Esatto. Sì, sì, sono tutte applicate. Esatto. No, c'è un sacco di gente, c'è traffico, è tutto bloccato, sì, sì. È brutto. Bordello. Cosa hai detto? Burche? Bordello. Bordello. Sì, questo, questo. Va bene questa parola. Non è molto importante, ma è l'idea. Ok, ok, grazie. Questo non mi piace perché non mi piace il calcio. Ah, ok, non ti piace il calcio. Invece mi piacciono, mi piacciono gli scacchi. Oh, bello, ok. Quindi sei una persona tranquilla, tu, in linea generale. Preferisci le cose tranquille? Più o meno, più o meno. itsuji le cose tranquille. Grazie.